Si parla di un accordo con l'Università Chieti Pescara, Facoltà di Architettura, per una mobilità sostenibile. In questo caso si parla di quelli che sono i percorsi ciclopedonali e anche fluviali. È un progetto importante intorno al quale si stanno muovendo tanti comuni. In questo caso cosa succederà? A seguito di questa convenzione noi cerchiamo di avere un apporto scientifico, professionale e tecnico che è quello rappresentato dall'Università e dal Dipartimento di Architettura. Verrà implementato con tutta l'attività che il Comune sta facendo per portare a termine un piano urbano del traffico generale. Stiamo portando avanti un discorso di analisi dei flussi di traffico che riguardano il territorio del Comune di Montsilvano ma anche dei Comuni limitrofi. In questo abbiamo aperto un tavolo di concertazione con il Comune di Pescara, con la provincia di Pescara e questo è il futuro perché noi vogliamo creare una mobilità che sia più fruibile per i cittadini, più semplice e che vada sicuramente a tutelare l'ambiente perché ricordiamolo che la mobilità sostenibile è il futuro. Cosa cambierà concretamente nella mobilità e per quanto riguarda l'aspetto delle piste ciclopedonali e fluviali? Come cambierebbe la mobilità? Nell'immediato stiamo cercando di dotare la città di assi di penetrazione per quanto riguarda la ciclabilità della città e quindi pensiamo di dotare la città di percorsi che facilitano anche gli spostamenti casa-lavoro, casa-uffici comunali o casa-scuola. Quindi nell'immediato vogliamo dare delle risposte concrete, speriamo che con l'approvazione del bilancio possiamo anche iniziare subito con qualche lavoro concreto.